Il suo sacerdote non ha detto la sua colpa più grande, si è messo a capo di una grande pericolosa setta che lo acclama con il figlio di Davide, dice di essere messina, viva la vita! Tu sei il re dei giudei? Dici questo da te oppure altri che l'hanno detto sul mio conto? Sono io forse un giudeo? Ti hanno consegnato a me e io voglio sapere che cosa hai fatto! Il mio regno non è di questo mondo! Ascolta la mia voce! La verità! Cos'è la verità? Ebbene io non trovo alcuna colpa in lui! Ma governatore! Io sono un giudeo? Quest'uomo è un giudeo? Sì! Il re dei giudei! Colui che dice di essere messina! E dov'è costui? Non vedo alcun re fra di voi! Eccolo! Questo? Questo è Gesù di Nazareth? Sì! Questo straccione è Gesù di Nazareth? Sì! Grazie! Grazie!